Salve a tutti papille bruciate dello svapo, va bene, che non siete altro Oggi vorrei recensire un liquido marca 2B che si chiama Hector Hector Detto, ogni tanto torniamo alle origini A recensire liquidi, diciamo, entry level Perché non si può sempre mangiare pasta con la sassa, è vero? Allora ho acquistato due liquidini, così Questo Hector della 2B, va bene, sarebbe tabacco e menta E un altro, è un altro Quindi questo tabacco al mentolo, Hector Della 2B mi ricordo acquistai un liquido che era tipo frutti esotici Mamma mia la fetenzia che era Una cosa inimmaginabile Oggi che sbapo, tipo tabacchi pazzeschi Tipo, no? Azad, Vaporchei, Voppicine Sbapo, queste cose Questi tabacchi qua, a volte ti sembrano, no? Sei abituato a cose, ora c'è una scafina Sei abituato a cose più pazzesche, di tabacchi più pazzeschi Questi tabacchi qua, entry level, magari ti sembrano certe volte Fuffa Però devi sempre ricordare da dove vieni Cioè dalle sigarette analogiche E bisogna abbassare la cresta, cari miei E ogni tanto bisogna Come un atto catartico Sì, lo so, sono meridionale Non ce la faccio a dire le parole difficili Come un atto catartico Ogni tanto deve sbapare qualche chimico Qualche chimicone, qualche cosa di sintesi Ecco, questo To be Hector Va bene? Si tratta di Aspetta che spapo Si tratta di un tabaccoso, così Da passeggio Col mentolo Al tipo che Vi fumavate le chimma alla menta Ve l'ha ricordato? Una cosa così, da passeggio Ogni tanto Non l'ho trovata a nicotina alta Peccato Nicotina bassa, 4 Ogni tanto ci vuole Comunque Oh Ve l'ho detto Di solito Ormai Sbapo Solo cose ottime Azzad Vaporcave Eccetera eccetera Però Questo non è male Carusi Ogni tanto per staccare ci sta Non ci sta male il mentolo qua Certo Tabacco sa chi è Però Ogni tanto torniamo alle origini Caro mio E non dimentichiamoci mai Da dove veniamo Basta Vergogna Vergogna Unc Ogni tanto per staccare noi Appone